Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Soleil Sorge è stata protagonista di un incidente hot dove ha mostrato tutto senza accorgersene mandando i fan in delirio Ecco le foto. Soleil Sorge è un personaggio televisivo che è diventata famosa dopo aver preso parte al programma Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice dove ha conosciuto il suo ex fidanzato il tronista Luca Onestini. Soleil Sorge è l'incidente sexy. Nata a Los Angeles nel 1994 Soleil e il suo ex fidanzato dopo aver fatto sognare i milioni di italiani per la loro storia d'amore nata nel programma di Maria De Filippi si sono lasciati mentre il tronista era all'interno della casa del grande fratello Vic per via di una relazione della ragazza iniziata con Marco Cartasegna Successivamente diventa una delle influencer più seguite di Calle e partecipa nel 2019 alla quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi dove dopo essere stata salvata più golpe dalla nomination per essere stata leader dimostrando una forte tenacia nelle prove più lunghe viene eliminata alla semifinale All'interno della reality conosce Gerenice Rodriguez con cui inizia una storia d'amore non andata poi a buon fine Dopo questa esperienza prende parte insieme a sua madre Wendy Kaye all'ottava edizione di Pechino Express classificandosi al quinto posto Sono risorge e l'incidente a un punto a settembre del 2020 entra a far parte del cast dei concorrenti del grande fratello Vic e sei rimanendo in casa a poco puntate dalla semifinale perdendo il televoto contro l'attore Davide Silvestri All'interno della reality fa molto clamore il presunto triangolo amoroso nato tra Soleil con l'attore Alex Belli e sua moglie Delia Vila Dopo l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, viene scelta da Barbara D'Urso per far parte della giuria del programma La Pupa e il secchione show affiancando Federico Fashion Style e Antonella Elì Il vestito troppo corto.Nelle storie Instagram di Barbara D'Urso del 12 aprile, la conduttrice prima della diretta, ha filmato indietro le tinte del programma e in alcune storie sono presenti anche i giudici del programma da lei condotta In una storia in particolare, i fan hanno notato come Soleil sorge, relazionandosi con la telecamera del telefono della D'Urso, abbia mostrato un pezzo delle sue mutandine inavvertitamente accavallando le gambe Soleil sorge e l'incidente Le immagini hanno mandato su di giri fan della sorge che hanno sempre dimostrato di seguirla in modo assiduo e di essere sempre dalla sua parte oltre che riempirla di complimenti per via della sua bellezza Al momento non si sa se Soleil sarà presente in altri programmi televisivi in futuro, ma dato il suo seguito sicuramente per lei è solo l'inizio di una lunga carriera Grazie per aver guardato l'intero video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessante novità Ci vediamo nei prossimi video